E veniamo adesso a parlarvi di Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli effettivamente abbiamo delle grosse novità che li riguardano. Ricordiamo brevemente la loro storia d'amore, si sono consociuti a uomini e donne e alla fine si sono messi insieme in un modo un po' anomalo, ma sicuramente la loro è stata una storia d'amore travolgente, infatti nei successivi cinque mesi dopo il trono credo che si sono separati sì e no una settimana, poi sempre insieme, sempre felici, sempre innamorati, con i fans di Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli che sono aumentati a dismisura dopo la scelta di uomini e donne. A dimostrazione che insomma i fans di uomini e donne hanno capito che la loro storia d'amore è vera e quindi si sono appassionati alla loro storia. Questo è diciamo fino ad oggi dove è arrivata una sorpresa molto bella, ma forse nemmeno troppo in attesa, infatti prima Valentina Rapisarda ha scritto che ho sto bellissimo messaggio su Instagram che già era tutto un programma ossia. L'amore vuole amore. Un messaggio che abbinato al fatto che lei aveva le mani reclinate sul pancino, beh già faceva capire tutto. Ma ad abbellire o forse imbruttire tutto, insomma come suo stile inconfondibile l'ha voluta buttata in cacciare anche a questo giro Andrea Cerioli che ha scritto. Aspettiamo un bebè nascerà a marzo. È moro occhi verdi e lo chiameremo Oronzo, giusto perché non ci aveva avvisati. Ovviamente Oronzo Stostrentrenso, tipico di Andrea Cerioli, d'altronde non credo che lo avrebbe potuto annunciare in maniera differente da questa conoscendolo.